Buongiorno a tutti da Paolo D'Ambra, bentornati ad un'altra puntata di Turbo Day, oggi andremo a vedere come ogni venerdì recap delle operazioni che abbiamo in portafoglio, ma andiamo a vedere prima cosa sta accadendo sui mercati, mercati americani sulla scia anche dei mercati asiatici aprono in territorio nettamente positivo, spinti soprattutto da quello che è l'amministrazione Biden in merito alla spesa pubblica che andrà appunto a destinare per la ripresa economica negli Stati Uniti d'America. Ieri abbiamo assistito a dati molto importanti sia sul mercato del lavoro, le richieste dei nuovi sussidi di disoccupazione sono diminuiti, il PIL si attesta a essere 6.4 per cento, dato positivo ma comunque inferiore all'attese degli analisti che insomma si aspettavano un aumento del 6 e 5 per cento. Oggi quello che facciamo è innanzitutto andare a rivisitare quali sono le operazioni che abbiamo in portafoglio, quindi spostiamoci un attimo sulla piattaforma per vedere appunto le operazioni pendenti che abbiamo. Sul lato destro della piattaforma come sempre abbiamo le nostre operazioni rialziste, siamo esposti con due trader rialzo sempre sull'oro che ci sta dando comunque ottime soddisfazioni, siamo poi a rialzo sui titoli Netflix e Tesla che inizialmente ci hanno fatto un po' soffrire ma comunque quanto possiamo ben notare dei grafici Tesla è comunque in netta ripresa così come Netflix. Siamo a rialzo anche sul Nasdaq, comunque un trade che andremo a rivisitare anche oggi e infine sulla parte sinistra della piattaforma abbiamo i nostri trade ribassisti, indice Futsimib e infine il titolo Eni. Quindi come dicevo prima oggi andremo a effettuare un valutare un trade rialzista sul Nasdaq visto che comunque gli indici americani, i titoli americani sono spinti da questo forte sentiment positivo che sta comunque accompagnando gli indici americani già da diverse settimane. Andiamo quindi sul grafico per vedere appunto quali sono i livelli operativi del trade odierno. Ho individuato un livello d'ingresso a 13.550 punti appena sotto il insomma il livello attuale, il livello attuale in realtà è un livello interessante da appunto da analizzare in quanto il livello di 13.820 e 13.800 secondo me è un buon livello resistenziale che ci permette comunque di avere dei ritracciamenti fino al nostro livello di ingresso per sfruttare appunto il nostro trade rialzista fino al raggiungimento del target impostato a 14.200 punti, un target sopra i massimi quindi comunque ci auguriamo ci aspettiamo che il nostro trade possa andare possa superare i massimi delle giornate precedenti. Uno stop loss a 13.100 punti al di sopra dei minimi delle giornate precedenti e infine andiamo sul sito di BNP Paribas per vedere appunto il certificato di oggi. Termina con il codice LB3 una leva 508 che ci permette di avere un knockout a 11.000 punti, una distanza quindi di circa il 20 per cento, 19.54 e un prezzo lettera che al momento quota 21 euro e 97 centesimi. Torniamo sulla piattaforma operativa infine per eseguire il nostro trade. Un prezzo impostato da me a 19 euro e 80 abbastanza distante dai livelli attuali per 51 pezzi. Eseguiamo il trade e infine andremo a fare il nostro recap odierno. Il sottostante abbiamo detto che è l'indice Nasdaq per una strategia rialzista, un livello di ingresso impostato a 13.550 punti, uno stop loss a 13.100 punti e infine un target a 14.200 punti. Per oggi è tutto, io come sempre vi auguro buon trading e buon weekend a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.